Ok, ho avviato. Dai, puoi avviare. Abbiamo la mappa. Siamo qua, in questa mod. Source. Mappa. Con Rocks e Porco, insomma, il canale è in descrizione. Solo il mio. Beh. E questa c'è... Anche io c'è il canale, però. Si può scrivere la mappa e anche la mod. E niente, io non l'ho mai provata. Mi metteremo in che riduzione, ovviamente. Dai zitto, Rocks, mentre parlo io. Cos... Ah, ok, setta... Metti zombie counter on. Che cazzo... Ah, ok, non l'ho... E start game. E non l'ho fatto? L'ho fatto io. Ok. Vedete in basso a destra, Undead Left? Sì. Ok, perché l'ho settato io, che bravo che sono. Ok. Non coprate Olimpia, che mi delude. Mi ha deludito. Ci sono le porte, ok. L'ho provato un pochino prima, ma ci sono qualcosa, ho fatto. Ma giusto all'inizio. Per tuo massimo una o due porte, poi basta. Comunque anche i personaggi in teoria sono diversi, tranne il mio. Mi sa che... Eh, ma aspetta, no. Solo io che sono la tipa, mi sa che è cambiato. No, no. Anche... Anche... Il poliziotto... No, no, non il poliziotto. Eh, no, fai tu il poliziotto, dico no. No, no, l'altro... Vabbè, vieni qua a Buschetti, ti voglio far vedere una cosa. Buschetti, vieni. Buschetti, vieni. Buschetti, vieni. Alza l'audio della voce. Un poco. Eh, lo sto alzando, aspetta. Ok. Senti, vai, premia F. Ma che cazzo? Ecco, questo è ciò che ho scoperto prima. Mentre l'ho provato un pochino. Uh, belli. Ok, quindi comunque mi hai detto che vuoi provare a fargli stragg. Sì. Che non dovrebbe essere tanto difficile quanto lungo. Però che ho un profitto condiviso, potrei anche buggarlo. Perché se no... Venite con me, dai. Che è giusto, fino a queste tre porte qua le ho per. Ok. Ah, ho scoperto che tipo poi lì, c'è quel pupazzo di neve, guarda Buschetti. Quello lì, tipo spara... Cioè, ti congela dalla bocca, dirente. Buono. Ah, vieni, puttano. Sì. Dai, a qui qua, Buschetti. Cioè, noi abbiamo le Gaborgam. E' minato la collezione completa, non la prendo. Aspetto... Inimidia, la prendo. No, no. Voglio vedere dopo se funziona una cosa. Perché qua il buccio che mi sono bloccato? Eh, perché c'è sto porzio di neve che sputa... Ghiaccio, sembra, e ti congela, e ti congela, e ti... Oh, shopping free. Ok, non... C'è la corrente? Sì, è qui, vieni con me. Ma con la tua. E' arrivato qua, tipo io. Corrente, attivola. Eh, sì, sto cercando dov'è. Non posso assumere, non me lo ricordo. Io so, magari, se magari l'entrime. Oh, attiva la che ho shopping sfrenato. Eh, apri qua, dalla cassa. Eh, c'è gente che mi invita a giocare. Apri in giro. Apri in giro, Buschetti. Ah, ok, aperto qua, adesso c'è un demone a cui dobbiamo andare l'anima. Ma perché c'è questo grigio? Vieni qua, da qui, è Buschetti, qui. Dove c'è la cassa di qua. Cioè, qua c'è il 1500 di porta, l'ho aperta. Io ho chiuso ritardato. Però vabbè, non mi ricordo dove cazzo sta la... Eh, non mi scivo. Faccio cassa, la sfida. Non trovo, non mi ricordo dove è l'entrime. Ho shopping free e lui cosa fa? Fa cassa. Quindi mica, o... Sì, io non trovo più la corrente. Non mi ricordo dove l'ho attivata prima. Ah, sono ritardato? Eh, tipo in fastidio, meno. Comunque, ragazzi, vedete questo fantasma qua? Venite che dobbiamo andargli le anime, se no non va avanti gli easter egg. Ti ho attivato la corrente, Buschetti. Eh, sì, magari... Magari mi è finito il... A posto. Quindi... Venite qua con me, venite, per favore. Che portiamo tutti i zombie. Venite, vieni di qui, Rox, Buschetti, vieni. Che anticipiamo il fantasma, dove abbiamo fatto il giro, sì, infatti. Minchia... Eccolo. Pensavo che si potessero andare. Rox, tienilo. Tieni gli zombie. Vieni qua da noi, vieni, Rox, vieni di qui. Bravo. Ora arriva questo coso qua e ci degni più o meno sotto, cioè... Ok, giusto per informazioni sopra queste cose qua non si può andare. Ecco, perché ha fatto già il pirla. Vuoi già ucciderli? E gli dà le anime. Dopo un bel po' di anime... Ecco, no. Non passiamoci sopra, forse che finito round, invece. Basta. Ehm, vai, Bruce, che tu stagli addietro a quello. Che quello là va in giro e... Beh, sì, cioè... Ma cos'è che non c'è la roba? Beh, è fatto bene, ma non so di quando è sta mappa. Ehm, non lo so, penso che sia sotto dicembre, no. Prendi la corrente se ci vai vicino al computer. Sì, infatti. Ho specializzato, ok. Vieni, Bruce, vieni con me. Ah, ok, hanno cambiato tipo... Mi sa che sia l'icona... Mi sa che sia l'icona del Widow's Wine che hanno cambiato. Hanno messo tipo un orso. Vabbè, ho preso... No, aspettate, la granata del Widow's Wine è tipo una palla di neve. Sì, te la avete in mano. Dov'è il tipo? È qui, venite qua. Ho approfitto con il diviso. Ah, hai un'arma. Ah, ok, scusami. Aspetta che faccio cassa. Dov'è il tipo? È il... Gira intorno. Ah, ok. Ah, ehm... E si bagga qua sull'albero? Sì. Vai, vai, vai. Rox, attento! Andiamo indietro a Bruschetta, che almeno lui ci ha profitto un diviso. Ed ha anche le anime al tipo. Qua c'è il... C'è il Jug? Sì, lì c'è il Jug. Vabbè, dato che avete specializzato, lo compra... Certo. Non ce l'hai specializzato. Ma è vero, tu no, tu, quindi te lo compro. Venite, venite, che si sta allontanando. Sì, ma se ne vai in giro... Ma se... Sì, sì, va in giro un po' per tutta la mappa. Sì, fermano, sto minchia. E noi dobbiamo... Sfamare. Diciamo. Ma il Pac a Pac a Pac a come si sblocca? Eh, non lo so, è preciso. Cioè, diciamo, l'ho visto prima, devi tipo pagare... No, con 50.000 punti. Andiamo là, andiamo là. Tipo, devi donare 12.500 punti su 4... A 4 porte, cioè a 4 case, quindi a 4 persone, penso sia. Buona, allora ha profitto condiviso. Ma no, c'ho sciopi sfrenato, quindi ho fatto comunque. Lo son messo apposta, zio, cazzo. Anche questa, anche queste qua... Sì, Dio Caro, che è un figlio di puttana. E allora mi sa che... Ma no, c'è uno stupido, ma perché Roxy è stupido? Eh, veramente. Ma c'è uno conto dei neuroni? Troppo alta. E tranquilli, se mi riporto, a sottirarlo un po'. Io direi che c'è un'istacchitana. Io direi che ho fatto strada con il mio Windows. It's why. E those baritrates are all the stands between us and them. Oh boy. No, quant' anni hai bisogno. Vieni qua, Norrox, allontanali. Tanti ne servono. E prima mi è bastato tipo un run and me. Cicolo, non mi tre? Quanti anni mi hai bisogno. Tante, non lo so, di preciso. Vada che la seconda mattina è fatto. Ok, ho fatto. Venite a prendere il cappello. È un cappello. Prendiamolo E diciamo che è finito L'ho preso io Era tipo lì sulla porta Vieni qua con me Bruce Che forse lo vedo o solo io o solo tu Ora vediamo In base ci vediamo Tu la vedi questa cosa qua aperta? No Ecco Vabbè questa parte a me se la carico io Vedremo Ma comunque va bene se non c'è qualcosa Non c'è un po' troppo alto Il volume della voce raga Tentiamo prendere tra bomba Eh copriete un attimo Non c'è un attimo Non c'è un attimo Ok ho passato la voce Beh tanto adesso non c'è quasi più la voce Vabbè un attimo da fastidio Magari da fastidio a chi guarda Ma magari da fastidio a chi guarda Ma comunque si è fatta bene Sto tanto bene Allora io direi una cosa Faccio capito il cammino per cercare Ci abbiamo spenato Perché siamo arrivati alla parte dove dicevo io Infatti me l'ha dato No mi ha dato la comunicazione Scusa Io specializzato ho preso Buono Vai io la pago E c'è un orso All'istante Mi ha dato un passato Dove ho visto il stice Il stice chile figo Evito il ramde raga Finiamolo L'obbligato è un po' gli spawn messi a casa C'è proprio è E' l'unica cosa forse non fatta bene Che spawnano un rapporto Ma cosa stanno nemmo proprio casaccio Ma questa qua si apre Ah questa qua è donare Eh non donare perché almeno c'è questoRAB Il sistema è asperato Per quello eh lo messo Capito, si si E che cazzo devi donare 50.000 euro Ok, che quello Scrooge era ricco Noi no Si, aspetta, io ho shopping Vediamo se me lo fa fare No, ragazzi Non si può donare Che shopping è suonato No, dai E allora, devo trovare di nuovo approfitto condiviso qualcosa mi è strunato Anche i cani sono diversi I cani si sono fighissimi Uhuhu Indovina cosa ho trovato Viccia Vabbè Ma perché cosa ho fatto? Fammi fare la cassa a me L'olimpia mi fa cagare L'olimpia mi fa cagare L'olimpia Beh no, non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Ma c'è questo baracchino Uh, l'STG ok Bagatissimo Per lei Fai, finché c'è la cosa qua Lo faccio io Sono una cazzo di illusione Se mi fate prendere a me Che c'ho shopping sfrenato Faccio l'ultima poi E non era mia Perché mi è stato inculato Ovviamente Eh, non era mia È di rox Infame di merda Ecco, finito Comunque ho l'STG Bruschè Vieni qua di fianco a me Oh, guardate in basso a destra Come hai pagato Guarda Senti come spara l'STG? Ah, ma se no Senti come spara Hai preso nel computer? Eh sì, è bagatissimo Allora Bruschè fermo Non spendere soldi Ora dobbiamo pagare Prendila Ma avevo le simile prima Mi ha rilassato Mi ha rilassato Si ho appissionato No, no Eh, ok Io ti vuoi l'executio? Allora Bruschè, tu arriva 12.500 Paga la prima Ok, rego Degli armi beh Non lo so Mi sa che fanno un po' schifo Aspetta Ma io mi sa Sto scaricando un rastro zombie Vabbè, dettaglio Ho da più punti Ho da più punti Vabbè, fai mi arrivare Allora Questa chi la coltella Il 1887 E' figo è il model Sì, ma Anche l'ho preso perché era figo, ma No, no, fa anche danno Ma cosa? Ah, io voglio vedere il swine E' una da terra con quattro colpi Con tutti i perc Eh, se è un mito Vieni, lo calco Pa, ok, si chimica Ah, dai, io prima tre colpi Più, uno, c'è, sono morto Quattro, quindi Sto facendo tre colpi più uno Dio, can, sono ritardato Allora, non pagare, Rox, per le cose Non spendere più soldi, Rox Dobbiamo donare 12.500 punti a ogni casa Tu fai questa, Rox Allora, adesso non gli diamo Guarda qua Guarda qua, Rox 12.500 qui devi donare Ma Di qui o Possono anche tutti ridere? Ehm C'è, no Tutti in botta Io quale devo fare questa qua Quella, no, quello ho già fatto io Cadrevo dall'altra volta Bene, il dubbio è questo Io mi compro i vestiti Sì, contro Io so l'Stg che è Cioè Tu sta mod qua e ti può graffettere Tutti sti punti che c'è Non passare di qua a fuori Perché senti? Ok, lasciami lì Cosa che hai il volumo un po' alto? Cosa? Hai il volumo un po' alto Cioè, c'è la bassino Cioè, a me non lo sento un botto voi ma basta Il gay Se finiamo al round c'è una bomba Vabbè che sento una canzoncina Eh, qua Sì, sì, no, no, no Ci sono tipo di caillon in giro per la mappa Quindi la Bravo Bello Ma ci sono tante borde che costano le bollote E sono quattro morte di cui una l'ho già pagata io Passo dalla morte e la prendono Che bello, ho fatto doppia gabba il gambello Cioè, mi ha dato specializzato Niente Io ho inizio la taglia No, tienila Io magari ho ancora... Profitto col diviso, eh Ok, prendilo Fermi, fermi Non uccidete voi, non uccidete Venite qua Vai, spaga Aspetta questo qua dietro Vlusche prendila Dietro Mattia mortale Vai, uccidi Andiamo qua nell'angolino, Bruce Che a me li uccidi prima Aspettissi qua Ok, vieni qui Bravo Uccidi Ciao, Max Buona mia Ecco, qualcosa Avviciniamoci, ragazzi, venite Cos'è che è uscito? Mi saiste Oh Sì, sì Preso Dai, venite la macchina mortata Vai, spaga un po' A coltella, Busche, sì È vero Però dovete venire tutti i due Sennò Non fate tutti i due Sì, sì Eh, due Vabbè, dai, dai Ci siamo quasi Tu paga questa qui, Busche E con il giallo paga l'altro Io pago questa, sì E io pago la giallo No, no, sono finite dopo E poi arriva Eh, ma io pago io sta qua, allora Ma tu l'hai già pagata, Rox? No, l'ho pagata io Ma una ne hai già pagata, Rox? Una Io no No, non la pago Scusa, tu quant' te ne fatti, Nico? Ah, no, ne mancano due, tranquilli Eh, ho visto Quindi una la pago io comunque, Rox E vieni qua, Rox, da noi Aspetta, questo qua la pago io E arriverò a zero Ok, fatto Vieni qua da Busche Eh, lui se ne sta Aspetta, venite bene Vabbè, lui li ha fatti, ok Aspettate, lasciamo ne uno A finire questo round Vieni qua, Rox, aspetta Rox, vieni qua Rox, vieni qua No, guarda Approfitto con il diviso Tranquillo, ce li ha già tutti i punti, lui Vabbè, dobbiamo anche potenziare Eh, sai che con la morte Che ho visto qui Ma è impossibile Ti si deve trasportare davanti Quindi anche se ci vai lontano Eh, ma ti sono Se lo buttano in culo Tanto busto a mano Andiamo a prendere Vado a prendere le munizioni del vesper Eh, c'è una bomba Fini il run No, aspetta Eh, Rox, fermo Non uccidergli l'ultimo Vai a pagare la tua porta Corri a pagarla E tienilo zombie Per favore Ma la macchina è tutta aperta E Rox lagga Eh Rox, attento Tieni lo zombie bravo E vai a pagare la tua Brux che vieni nella chiesa Non pagare ancora Brux Corri qua Vieni Che ti faccio vedere No, no, sei tu Io sono da dio So Io con la mia 8 metri Vai, no, no Brux Vai, vai dove devi pagare Rox Stai là E prenditi lo zombie Se riesci Eh, ma la gambotto Eh, perché almeno io a Bruce A Bruce che gli faccio vedere Quello che deve fare Cioè, quello che può vedere Così lo va a vedere Guarda quanto spazio hai Rox Rox, tienilo Perché ho anche il guido sui neo Che non va a Devo buttarlo Ok, vai Quando vuoi paga E ovviamente Bruce che tu vedrai qua Che si disattivano le cose Del paga punch Come ho visto prima Io ho detto Wow, figo Finalmente ho sbloccato Il paga punch Infatti vedi che qua Tra poco va via L'elettricità Invece no Ah, no, aspetta Viego Ho Ho dimenticato Un coso Mi sa Ma che cazzo stai dicendo E invece no Non ho dimenticato un cazzo Vieni qui Bruce Eccola L'hai vista Ah, porto Decesi Ma Ma secondo me Così non muore Perché non mi da Litmarker Eh, ma non da Litmarker Quando picchi Gli zombie Solo quando muoiono Che cazzo stai dicendo Ho preso Ho preso un passo Dalla morte Ok, buona Ho preso un passo Un po' di merda Oh, dio No, no, no Eh, no Vieni qua Rox Se sparo un po' Ma non mi fa Paca panciare Eh, perché c'è Forse viva questa Dobbiamo uccidere Prima questa Forse No, no Cazzo vuoi Dammi la tua E guardala Che ho più come la merda Sta zoccola Ma so, ma che E invece Cos'è che hai detto Cos'è che hai detto Cos'è che hai detto Buschi Ah, no No, non lo fa ancora Forse c'è qualche step Ancora Non so Perché io non sono arrivato Dopo qua Quindi Mi stai facendo la gara qua Eh, no Chi se ne fa Guardi Dico Io Mi stai facendo la gara qua Ruschi, provi a venire qua con me giù Però tu hai il garanti Ma non è bello quello Arrivo Aspetta che Faccio un paio di cose Vedimi ancora qualcosa Io ti dico Suschi Un po' Musica Un po' Un po' Un po' Un po' Un po' Lo- Ti faccio la lettura Competa Volendo Però fini Tre cuc... Un po' Un po' Un po' Un po' Non so se Non so se Dai vieni busche Corri con me Prima inizia a venerò Uno schabato Uno schabato Uno schabato Vieni busche 4 buscata in giulano stilando aspettando a terra che io è già passato c'è un'ica niente che non basta vediamo io se c'è aspetta s per ho fatto una cosa s per qualcosa non ho detto ho visto qualcosa qua dentro ah no questa è la... che c'è stupido sei guarda qua se vedi qualcosa no 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 non vedo niente no prima vedevo aperta proprio forse hai chiamato lo sfido che è volato più a prima oppure ho toccato il paca pancia non so eh guarda andiamo a vedere non posso terra comunque che ha... è so correndo il pagano c'è ancora uno morto c'è ancora quello morto no segno dov'è? si no ma dai dio caro forse sono i tre sfidi che dobbiamo uccidere no come nella... ma non è rossa prima era rossa e quando la picchietta rossa ovviamente guarda la coltello guarda forse gli fa un botto i danno agli larmi po' guarda l'interno della bomba prendila oltre che con quell'attività è morta è morta è morta ma che è continuare ora faccia mangiare la chiuso e mette il limite bus che è in generale del bravo effetti gli altri non mi ha detto e torna giù bus che vediamo cosa succede si sono cittadini non mi ha detto ma ancora vero mi sento sempre del contatore grazie rox e riesci a tenere una persona e siamo arrivati da qua qua l'ho chiato il coso ora cerchiamo qua se c'è qualche altro attivare il giro del mondo no no forse bo qualche passibile qualcosa no proviamo a sparare un po' no no niente adesso mi ghiaccia ancora mi sa che di qua si ghiaccia mi faceva qualche altro di qua niente niente chiuso di qua lo spawn è tutto chiuso questo è un altro voce di quelli che è no qua qua la cosa che ho visto chi non posto al titolo vieni qua un attimo io qua abbiamo visto a no l'avete già preso a una cosa che provi una ma la punta efe qua l'isola giudiziano l'isola giudiziano ma guarda sto baracchino guarda che bisogna fare qualcosa si aspetta a far vedere dietro no ancora chiuso voglio tirare una granata eh va bene dai e vediamo se passando al rom succede qualcosa vediamo le porte ce ne vediamo i soldi c'è una picchia e la morte niente poco 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 è bloccato si mi sei si la morte poi vado a vedere dopo su la morte si ancora bloccato il pocapan e carionti non si entrano niente non sarò eh non lo so cioè io prima non sono arrivato qui dove sono questi carionti allora tu dove sei sei libri e questo è lì dentro a dalla ah è il gramofono il gramofono che è Yon eh sparati sparati eh andiamo a cercarli eh uno li ho già tutti e tre sono già tutti e tre dove sono però non so cosa faccio bus che uno è qua dentro sulla destra qui eh vai gli ho sparato e gli ho accoltellato fatto tutto e uno è qui bus che vieni uno era qua è qui e gli ho sparato anche a quello però non so cosa possiamo fare ancora proviamo a vedere di qua se si è per può vedere il pocapancio adesso? eh ma non penso perché abbiamo luci su due morti? secondo me ci manca il terzo spirito capito? perché il primo era del passato cioè delle tomba dalla tomba uno che era qua alla chiesa è del presente del futuro e poi ci ha fatto una risoluzione ci manca l'ultimo andiamo a vedere di qua qua c'era un altro ah sì quello in chiesa hai fatto tutto il giusto sì no ross ora vediamo non so se adesso tipo si può interagire o qualcosa di qui no 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 c'è io fino a qua arrivato anche prima c'è no non c'è acqua o io sono morto con la morte perché ho arrivato già con venti o tenetene uno fermi così ehm copritemi io sono a miglior vedere eh rossi ne coprirmi eh ma c'è lo zombie ah beh tenetene uno se ne avete solo uno vedete lontano io sto andando a vedere in first room se c'è qualcosa di strano ah venite qui in first room cosa venite in first room arrivo f and the game aspetta aspetta fermo no guarda ma già fatto cioè già così si pagare il paka punch allora controlliamo apri il paka punch no ma che qualcosa si no abbiamo completato il paka punch poi abbiamo fatto l'easter egg quindi tanta roba in quanto venti minuti c'è il paka punch c'è il paka punch c'è il paka punch ma forse c'è qualcosa qua dentro la chiesa no ma perché non si può pagamentare non lo so perché è ancora bloccato il paka punch come vedi prendi la sposta e ci fai sopra quale dice niente riguardo gli streg mh beh figa l'abbiamo fatto tutto diciamo gli strepa ne prego il paka punch che secondo me c'entrano qualcosa sti pazzi di neve però non so o c'entra qualcosa la parte qua dietro vieni a vedere c'è qua dove c'è la cassa che c'è ci sono anche sti cosi qua non lo so ma secondo me quel baracchino lì un po' strano proprio eh perché dice chiuso quello che mi ha sconca oppure la caccia qua dentro a ganata spartate tutti i papi di neve spartate tutti i papi di neve spartate tutti i papi di neve poi c'è chiuso vediamo cosa c'è qua dentro cioè non fa la parola di papi di neve ma secondo me qua c'è un altro di gramofono ma dove qua guarda dove sono eccolo vuol dire sentire ma non è che il tipo sarà la cagliatronica e lui io ne ho più di granate e nemmeno io non però cambia cambiate niente no un cazzo non guarda qui ma 4 grammi 4 di 2 3 3 4 ma qua c'è anche tipo un effetto guarda lo bus per lui poco sotto qui svegliati e lo vedi quello del tutto si qualcosa c'è un effetto comunque aggiunto il ms caso poi salate mescopia quindi niente da la parte però di quale è entrato solo uno non vedere se c'è qualcun altro ma guarda che non è una parola veramente piccola aspetta si alzo un po' il volume si è vero l'alzo anch'io giusto per sentire basso la voce alzo la musica in questo modo un po' di effetti un po' al generale voglio quando ho messo quindi sono qua e ma li sentiamo lo stesso fermi da sparare ma brusche più che altro anche se gli spaghiamo li sentiamo lo stesso poi eh lo so e sono attentando a caipo passi di neve se volete io c'ho anche un piano calco da ottenere boh vogliono provare quelle granate? eh probabilmente posso usare il potere assoluto quindi l'ho usato eh allora soldi con il danne per ioi 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 roma ti facciamo facciamo anche il solito roma acqua vedi attraverso quale questo qua quale questo qua guarda a me interna di erosi punto a cavo progettata ea una l'ho già fatta quella lì che trova tutti dicevi che era lì l'ho trovata il il però non lo so ea capisci che questa vala faccio poi c'è qualcosa qua aspetta lì c'è una banana per terra notaria scelta chelta qualche altra banana però non so se ma a boh ma se gli spari ah ma non è che cioè gli spari quella vuole avere perché gli spari qui lo stesso basso e sarà passata dentro al muro ma ci deve essere un senso logico cioè dovremmo sbloccare l'elettricità ma un senso logico non andati a calcio ma forse c'è qualcosa proprio in chiesa in alto e io stavo guardando, non ho trovato niente avete sparato ai pattini che avevo trovato? eh si, li ho sparato anche con la Reagan ma no, no, Rox è un genio aspetta arrivo arrivo ha lanciato la granata del Widow Swine lì dentro dove? lì, lì di dove? nel pacca a pancia? si, qua sopra praticamente in generale comunque non c'ha mimetica, capito? no quindi niente, c'è la spina abbiamo finito aspetta, ma su, allora sulla Reagan normale mi ha messo si, questa qua non ce l'ha lo stand qui del come si chiama finchiavo, il Berlusca, attento perchè so fermi? ho attivato ah, ok, ok ma com'era una mimetica? ah ok, perchè questo qua ti può mettere le mimetiche di Revelation solo che questo coso qui non c'è su Revelation quindi non gli ha messo a mimetica perchè altro no ma comunque abbiamo finito la mappa ha più tentativo una donna che può player veramente beh, è facile no, vabbè, ha fatto bene ma ha fatto bene di stress soprattutto più che altro era capire anche come sbloccare il pagamento ma poi, non si spiegate così proprio la mod di scherone è proprio fatto bene sì anche, soprattutto guardando anche il perfaggio che ho io che gli ha cambiato tutti i vestiti e tutto che non è roba, diciamo, non penso facile beh, alto forno ho trovato io voglio coi nerd, veramente ma quindi è finita così, proprio così proprio, mi sa di sì ma no, dai ci dobbiamo rinunciare in due volte cosa facciamo? oh, vuoi arrivare a round 20, non lo so ma sì, dai, facciamo a round 20 ma qua mi sa che è abbastanza facile comunque infatti, o la terminiamo a quadri eh, non lo so, c'era a round 20 ci arriviamo sicuro beh, se vuoi farlo così guarda che il mettero è legato così abbiamo messo qualcosa perché abbiamo usato il legato però alla fine beh, cos'è che abbiamo usato? un po' fitto diviso, ma ah, che il mettero è? ah, il rox è quello lì, madonna ho con tutto rox e buschetta vuoi vedere? eh sì, io c'ho questa qui sulla vegan sì, eh, vabbè che c'ho anche molti giocatori io farei... andiamo a fare l'endgame, dai è vero, l'endgame giusto, andiamo a farlo adesso aspetta facciamo, facciamo rast e porto c'è il cane poi poi al massimo allora, buschetta facciamo una bella cosa aspetta, aspetta il secondo tempo ci dividiamo i due episodi e via almeno è figa, no? sta ho tirato la fine, ho tirato la fine dai, vabbè, vieni, buschetta qualcosa di speciale l'avranno fatta? no no è finita così però possiamo volerla muovere sì, questo sì beh, è figa chi sta? molto carina buschetta al nabbo 2 a terra però, beh che possiamo fare io non pensavo aspetta se andrei sopra l'altra ma le cose vabbè, poi potremmo andare sopra le banche se volete divertirmi sopra le banche e io ora ti dobbiamo ancora installare e skycalanto tu non ci attivanto vabbè comunque abbiamo finito di stack e basta poi io fermo pure io adesso diciamo vediamo